L'integrazione territoriale come arma in più per accedere ai fondi comunitari per lo sviluppo territoriale. Di questo e altro si è discusso ieri durante il convegno organizzato a scalea dal PIT Alto Tirono Cosentino sulle modalità di partecipazione sia per soggetti pubblici sia privati alle risorse messe in campo dall'Unione Europea con il PIT Alto Ionio Cosentino che ha già approcciato con questo tipo di aiuti e con Carmen Giorgia Manfredi, esperta del ramo. Illustreremo le modalità di accesso emanate dal Dipartimento dell'Agricoltura, Foreste e Forestazione in merito al PSR 2007-2012 e in particolare sui finanziamenti per l'agricoltura, per l'artigianato e per la media e piccola impresa. Queste misure che sono in essere cercano di sviluppare anche i settori che sono di contorno al settore primario al fine di incentivarlo e migliorarlo. Un momento di confronto, formazione e informazione utile a tutto il comprensorio. Non è facile procedere in questa direzione perché è una situazione un poco particolare la nostra dove c'è uno sfilacciamento del territorio, questo territorio è in qualche modo un po' abbandonato dalle politiche regionali e ritengo che invece ci siano grosse opportunità che se colte in maniera partecipata sia dai sindaci che dai privati possiamo portare risorse al territorio. L'Unione fa la forza dunque e la regola principale per potersi avvicinare a questo tipo di fondi. Intanto i POR Calabria 2007-2013 stanno per scadere e già si pensa ai prossimi 5 anni. Si sta giudendo questa fase di programmazione ma già la programmazione 2014-2020 metterà ancora in evidenza la necessità di progettazione integrata. Quindi se uno non è pronto, non è preparato, non è adeguatamente attenzato per queste cose qui chiaramente avrà un passo più lento rispetto agli altri territori. La progettazione integrata non è soltanto opere infrastrutturali, è regimi d'aiuto, è formazione. Quindi tutto quanto quello che ruota intorno a uno sviluppo di un territorio non può essere che così. Da soli non si va da nessuna parte. I territori o agiscono in maniera coesa o altrimenti rischiano di raccogliere le briciole o addirittura di non poter partecipare proprio ad alcuni banti di una certa consistenza.